Una volta a Girardino, cercando Montini, come stanno il giocatore? Perché lei a più volte aveva detto ancora non lo vedo pronto, adesso è pronto e poi in più è pronto il Milan, quindi se è stato anche attaccante. Cioè l'attaccante ha qualcosa di più contro l'ex squadra, soprattutto se la Dio non è stato semplice? Non lo so, so invece che Girardino ha grandissime motivazioni, si è messo a disposizione del primo giorno, vive anche nell'allenamento per il gol, quindi è importante. Ha determinate caratteristiche, se non ha giocato fino adesso, perché magari pensavo che le sue caratteristiche, al di là della tenuta, non fossero adatte per il tipo di partita. Nel senso, sicuramente non è un giocatore da transizione, ma se una squadra fa la partita è un'area di rigore, gli ultimi eventi, se anche un giocatore vedrà più tra le caratteristiche, non ha mai più visto che lei. Ma non l'abbiamo detto il primo, ma c'è l'altro adesso, sicuramente è una risorsa.